Yo benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui in un nuovo episodio delle Bedwars Oggi signori, dopo aver fatto le Skywars ultra realistiche, stiamo facendo una Bedwars con una texture pack da 1024x Una texture pack pesantissima, ancora più pesante di quella lì dell'ultima volta Perché quella lì dell'ultima volta era pesante 512x, questo è il doppio C'è anche un'altra difficoltà, ovvero che questa texture pack è per la 1.14 quindi sarà difficile in culo Poter fare i pvp bene, e vi dico una cosa, se questo video raggiunge un supporto della madonna come avete fatto ultimamente Io shoppo la texture pack quella lì da 2048x, detto questo nulla vi lascio il game Ok signori, siamo in partita e come vedete c'è anche la nostra cara signora GoPro, altro motivo per lasciar like e supportarmi Guarda qua quanti sono fighi sti blocchi di legno, ma guarda quanto sono belli, madonna Io mi perdo sempre a vedere sti blocchi perché mi piacciono troppo E che cazzo è? Guarda qua, per far spriggiare C'è lo shift che fa svush, svush Ma che cazzo è? È Greta Menchi Fa, ma che cazzo fa sto shift Ok, siamo arrivati, dio mio, guarda sti mattoni quanto sono belli Ok, siamo contro quest'acqua E' qua zì, ok, è andato E ha bardato con legno e lana Io ho perso la TNT Quindi non posso che tornare in base e ragionare un attimo Ok, sta tornando di nuovo In 1.14 c'è anche la sensibilità che è diversa di Minecraft Guarda qui Com'è tutto più buggato Che brutta versione è la 1.14 Ma che brutta versione è Non puoi fare il movimento 180 troppo veloce perché sennò ti si bugga tutto Ok Distrutto Letto è andato, aspettiamo che respawna E lo killiamo Perfetto Mentre porto in base questi diamanti vi voglio svelare un segreto Nessuno di voi se lo aspetterà mai questa cosa che sto per dirvi Quindi tenetevi pronti Fa schifo sta versione di Minecraft Dio mio, tutta buggata Ma cos'è? Che è sta merda? Guarda qui Se faccio sto movimento troppo veloce mentre piazzo i blocchi Si bugga E le chest Le chest sono un discorso astratto Non puoi premere shift più tasso sinistro Per spostare la roba velocemente È un concetto che Minecraft 1.14 non ha ancora compreso Per non parlare di sto shift cosa sto facendo? Sto ballando Sto mettendo la faccia nel culo del blocco e poi la tiro di nuovo via E avevo finito la voce Comunque sono rimasto contro Un altro Alex Ma che cazzo sono tutti Alex oggi? E il blu che è Zenitsu Oh oh il blu è lì Oh 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 figlio di troia Oh lasciami sta a letto Oh a Zenitsu un bastardo Zenitsu un bastardo Madonna Ti tiro un cazzotto Ti riaddormento Ti faccio tornare Narcolettico Cazzo Non Affanculo lo sapevi Perché non lo sapevi io? Tra l'altro In alto a destra vedete un sondaggio Ovvero un video Totalmente opposto Rispetto a questo Ovvero un video Con una texture pack O Uno per Oppure Quattro per Ed è Probabilmente ancora più complicato giocare Perché letteralmente Non si capirà un cazzo Dio mio Quanto può essere Complicato Ciao capitano Seeds Capitano Seeds Lei deve venire scombato Ok grazie pixel Che stavi cercando di Farmi fare la catastrofe Grazie mille Vediamo se riesco in tempo Ok perfetto Letto andato Ok Raga sto continuando a cadere Ma fidatevi Che fare i ponti In 1.14 È qualcosa Di sul serio È impossibile È troppo complicato Non ci riesci È impossibile Comunque Qui davanti a me C'ho l'acqua Che è ancora vivo E ha avuto tutto questo tempo Per prendersi i diamanti Quindi vorrei pusharlo Prima che si fa troppo più Ho visto che è andato Pure al centro Quindi Non so cosa si è fatto Con gli smeraldi Se si è fatto l'ossidiana Bestemme Ok Clutch In 1.14 Questo gli do un valore aggiuntivo Perché È molto più bello Quanto è bello Che fa schifo il pvp In questa versione No come Non mi hanno rottilato Stavo rispondendo Alla buona Porca Ma no No Se vuole fare il TNT jump No voleva solo Spaccarmi il ponte Ma allora sai cosa ti dico Sei proprio un figlio Di tra l'acqua dietro Già pronto Io non c'ho nulla Devo preghiepolare Ha pure sharpness Sono Bello che è andato Zì Sono bello che è schiattato Quadro di chi Esatto Nulla raga Ci ho provato a vincere Una bedwars In questa versione Ma sarà che Non gioco da 4 giorni Visto che ero partito Sarà che devo ripartire Non ho tempo Per potermi riscaldare O cose del genere Io comunque Veramente ci ho provato Ci ho messo Tutto me stesso In queste due bedwars Per cercare di vincerle Ma nulla Questa versione Fa letteralmente schifo E poi si chiedono Perché il pvp è morto Comunque nulla Vi ricordo di Votare sul sondaggio Che è apparso prima Di lasciare Un like Perché se volete Una 2048 per Che mi rompa il pc Che mi rompa il culo E che soprattutto Mi faccia smadonnare Nei prossimi video Dovete lasciarlo Ci si becca Sul canale telegram Ci si becca Nei prossimi video Bello